E cerchiamo di capire con questo video, salutiamo Roxy Rosa, salutiamo Gina Decazzan e tutte le persone che si collegano e cerchiamo di capire con questo video che cosa, che cosa è importante tenere segreto quando ti relazioni con una persona nelle tue relazioni sentimentali affettive, salutiamo Gina Decazzan, salutiamo Roxy Rosa, invito tutti a iscrivervi al canale e attivare la campanella così potrete ricevere la notifica dei nuovi video. Allora, ci sono diverse cose che salutiamo la nostra grenettina, che una donna soprattutto ma anche un uomo deve mantenere segrete perché mantenere segrete porta sicuramente a dei miglioramenti. Allora, teniamo presente questo, che la sfida più intrigante ad esempio per un uomo comincia quando non è sicuro di piacere a una donna. Quindi a meno che già non sei, non hai sviluppato diciamo diverse situazioni per cui conosci a fondo questa persona, per cui si è creato un rapporto diciamo stabile e quindi c'è un feeling diverso, soprattutto all'inizio, quando inizia una relazione, quando una relazione inizia a manifestarsi dovresti cercare di evitare di fargli intendere che lui ti piace tantissimo o che lei ti piace tantissimo, perché questo vale sia per gli uomini che per le donne che sei follemente innamorata o innamorato se un uomo ti piace diciamo e bisogna sempre seminare dubbi fondamentalmente. Certo, bisogna mandare dei segnali perché soprattutto all'inizio di una relazione è importante mandare dei segnali, delle esche fondamentalmente, ma queste esche devono essere diciamo alternate, cioè devi mandare dei segnali in cui ti piace, non ti piace, forse sì, forse no. Saper valutare al meglio diciamo queste situazioni è il punto più importante, il punto fondamentale, no? E' importante, troppe certezze, eccessive certezze tolgono il piacere della sfida e questo dobbiamo tenerlo presente. Se tu dai eccessive certezze tolgono il brivido, tolgono emozioni. Ovviamente per dimostrare interesse è meglio utilizzare il linguaggio analogico, solitiamo anche Rosi, è meglio utilizzare il linguaggio del corpo perché attraverso, solitiamo la mela, attraverso il linguaggio del corpo, attraverso il linguaggio analogico tu puoi fargli intendere che sei comunque interessata ma non del tutto. L'importante è non, diciamo, fargli intendere da un punto di vista logico, non si deve creare una situazione per cui, come dire, è lui o lei ovviamente perché questo vale sia per gli uomini che per le donne che deve pensare di conquistare voi. Quindi è una donna che deve pensare di conquistarti e un uomo che deve pensare di conquistarti. Questo riguarda gli uomini e le donne ovviamente. Quindi bisogna sempre insinuare dei dubbi, no? Quindi quello, il fatto che ti piace, che lui ti piace o il fatto che lei ti piace deve restare un segreto. Deve restare un segreto perché se gli dite apertamente a livello logico e razionale Uh, quanto mi piaci, oh, quanto mi piaci, certo, questa persona si sentirà gratificata perché da un punto di vista logico si sentirà gratificata ma da un punto di vista emozionale, diciamo, tenderà a perdere interesse fondamentalmente e quindi va evitato. Teniamo presente che il processo di innamoramento deve essere un po' una strada, un po' insalita fondamentalmente, no? Questo l'ho già detto tante volte ma ci tengo a ripeterlo, pensate sempre al piccolo principe, no? La storia del piccolo principe che, diciamo, era coinvolto dalla sua rosa perché gli dava delle attenzioni fondamentalmente, no? Perché per la sua rosa aveva fatto tante cose, aveva messo energie, aveva, l'aveva innaffiata, portata dalle intemperie mentre invece le altre rose con cui non aveva dato nessuna attenzione non le trovava così interessanti. Ovviamente quindi bisogna per prima cosa non fare intendere che lui ti piaccia. Un'altra cosa che devi mantenere segreta sono i tuoi obiettivi reali di quella situazione. I tuoi obiettivi reali è come nel gioco del poker, no? Non è che devi giocare a carte scoperte. Il tuo obiettivo reale, cioè, nel senso che se tu ti vuoi sposare con questa persona, non è che devi dirglielo, e guarda che io però mi voglio sposare, e guarda che io però mi voglio fidanzare, e guarda che però io voglio andare a convivere, e guarda che però io voglio tanti bambini, e guarda che però io voglio questo, e guarda che però io voglio quello, e io voglio, diciamo, questo, quello e quell'altro. E perché se tu manifesti il tuo obiettivo, è come dire, quello diventerà, come dire, uccell di bosco, come si dice, scapperà a gambe elevate. Quindi mai, mai, mai manifestare il tuo obiettivo, qualunque so sia. Poi non è detto che tu, dentro di te, potrai anche cambiare il tuo obiettivo. No, perché è ovvio che se, per dire, tu parti per sposarti, poi interagendo con questa persona, ti rendi conto che questo, piuttosto, diciamo, va al rogo, piuttosto che andare all'altare, e allora, come dire, o cambi obiettivo, e quindi devi definire tu, però non deve averglielo palesato prima. O cambi obiettivo, oppure cambi, come dire, persona. Perché, come dire, tra l'altro, se lui non ha una conoscenza, se lui non ha una conoscenza, esatto, e guarda che però io voglio sposarmi, e guarda che però io voglio tanti bambini, se tu non, se tu manifesti palesemente il tuo obiettivo, quindi, cioè, tra l'altro, magari questa persona potrebbe anche, come dire, non lo so, fingere di consentire al tuo obiettivo e poi ciccia, no? Quindi, l'obiettivo deve essere manifestatamente mantenuto segreto. Poi, ripeto, dentro di te devi valutare. Se valuti che questo, appunto, preferisce andare al rogo, piuttosto che andare sull'altare, valuta te. Se per te l'obiettivo andare sull'altare è un obiettivo irrinunciabile, cambia la persona. Perché questo, l'ho detto, lo dico quasi in tutti i video, no? Però non è che puoi trasformare le persone e far sì che le persone, come dire, e far sì che le persone facciano qualcosa che proprio non sentono nelle loro corde, no? Noi non possiamo, anche tutte le strategie di seduzione del mondo, messe assieme, non possono far sì che una persona stravolga completamente la sua visione della vita. Come, d'altra parte, chi stravolge la sua visione della vita soffrirà. Cioè, se il tuo obiettivo è qualunque esso sia, devi perseguirlo indipendentemente dalla persona, no? Se il tuo obiettivo è il matrimonio e Mario Rossi non si vuole sposare, è inutile che stai lì a sperare che Mario Rossi si sposi. Fai prima a cambiare, a cambiare, diciamo, a cambiare persona. Fai prima a cambiare persona. Ovviamente devi sapere quello che vuoi. Questo è un condizio sine qua non, no? Perché se tu non sai quello che vuoi, allora troverai sicuramente quello che non vuoi. Perché sapere quello che vogliamo deve essere un'altra cosa, qualcosa di fondamentale, no? E questo è un punto importante. Quindi, prima cosa che non devi dire, dicevo, sono che ti piace da matti, che è la persona giusta, che bla bla bla. Seconda cosa, non devi svelare i tuoi obiettivi. O perlomeno devi, salutiamo Sissi, i tuoi obiettivi devono essere svelati gradualmente, fondamentalmente. Per dire, se il tuo obiettivo è sposarti con quella persona, beh, tu potrai iniziare a vedere indirettamente, no? Ad esempio, analogicamente, se lui è portato al matrimonio o meno, potrai iniziare senza chiedergli, ma tu ti vuoi sposare, nella tua vita c'è il matrimonio, inizia a parlare di matrimonio. Vedete, io raschio già, basta che ne parlo io e inizia a raschiare. E se inizia a parlare di matrimonio, e dall'altra parte ci sono arraschiamenti, grattamenti di capo, sfregamenti di naso, andare indietro, guardare da un'altra parte, guardare per terra, guardare per l'aria, è ovvio che, diciamo, questa persona di matrimonio non ne vuole sapere. cioè, non soltanto, cioè, non ne vuole sapere, punto. Poi, sta a te decidere quello che vuoi fare, quello che ti va di fare, come vuoi... Ovviamente c'è anche da dire che quello che non vale oggi, magari domani potrebbe valere, ma tu devi basarti sul presente, no? Perché questo vale anche per chi ha le relazioni con persone sposate. È evidente che una persona sposata potrebbe un giorno lasciare la moglie, no? Potrebbe, però non è detto che lo faccia. Quindi, se non la lascia nel qui ed ora, è inutile che tu vivi di speranza, perché purtroppo, come dire, chi vive sperando si dice muore cagando, no? Qualcosa del genere. Non è che tu puoi sperare che un giorno accadrà, ah, un giorno accadrà questo. Certo, potrà accadere, potrà non accadere. Ma se lo fai con distacco dal risultato, può avere anche un senso. Ma se lo fai con attaccamento, le cose non è che vadano, che possono andare per il verso giusto, sicuramente. E questo è un punto... è un punto fondamentale. Il fatto che non si può tornare indietro e si sta a rimuginare sul passato è un'altra cosa sbagliata. Quello che è fatto è fatto. Cioè, intanto il passato non si può cambiare, ma noi possiamo, come dice giustamente la mela, ma noi possiamo cambiare il presente e futuro. Cambiare il presente e futuro è quello che possiamo farlo. E quindi, comunque, detto questo, questa è la seconda cosa di cui non bisogna parlare, che bisogna mantenere segrete, ed è una cosa importante. Le altre cose che vanno mantenute segrete sono, diciamo, problematiche esterne che noi abbiamo. Cioè, se tu, ad esempio, hai, come dire, ovviamente, se sei completamente folle, non dirlo, no? Cioè, cerca di farti vedere normale. ma problemi che possono essere problemi gravi, cioè gravi, nel senso potrebbero essere problemi economici, potrebbero essere problematiche, talvolta anche legate alla salute, no? Ci sono persone, ad esempio, che si riempiono di psicofarmaci. Potrebbero essere tante cose, no? Ovviamente questo non sai, queste cose quali sono, cioè, potrebbe essere di tutto, però devi cercare di risolvertele, ma di non coinvolgere l'altra persona in questo. Cioè, i tuoi problemi, ecco, perché questa è un'altra speranza che hanno delle persone, no? Sperano che attraverso una relazione possano risolversi dei problemi. Una relazione non ti risolve i problemi, non deve risolverti i problemi, va già bene se non te ne crea di altri, va già bene se non te ne crea di altri, e nessuno, a meno che non sia un folle, vuole, diciamo, come possiamo dire, vuole sviver su una relazione con una persona piena di problemi. Ad esempio, se tu hai quattro figli, beh, magari non potrai tenere nascosti che quattro figli, perché sicuramente, ma non è che devi dirgli, cioè, i tuoi quattro figli devono essere, come dire, al di fuori della tua relazione. Cioè, devi dire, ho quattro figli, ma non, non devi dire, se tu dici, eh, ho quattro figli, piccoli, è difficoltà, mandare avanti la cosa, è un questo, è un quello, è un quell'altro, e allora la persona si sgancia, e si sgancerà, non c'è niente da fare. Certo, quello che dice il nostro Tug è vero, cioè, in una relazione ci si prende cura uno dell'altro, ma, quando la relazione è avviata, no, ci sono persone che all'inizio della relazione ti mettono subito dei vincoli, cioè, certo, quando una relazione, due persone si conoscono, si frequentano da anni, è naturale, no, che ci sia anche quello che viene chiamato il sodalizio, fondamentalmente. in una relazione che è solo di avviata, come dice giustamente anche la nostra, la nostra, la nostra, sì, si può accadere, ma all'inizio di una relazione, se tu inizi a mettere subito davanti i tuoi problemi, le tue esigenze, è certo che qua la difficoltà è arrivare a fine mese, perché mio marito, mio ex marito non mi passa tanto gli alimenti, qua, là, io ho quattro bambini, quattro bambini piccoli, qua, là, che devono mangiare, devono far quello, devono comprare i giochi, devono far quello, e quello dice, che cazzo, se io mi metto con questa, mi becherò tutti i problemi, cioè, quello che non fa il marito, tocca farla a me, cioè, fondamentalmente. I problemi, in linea di principio, dobbiamo smazzarceli da soli, fondamentalmente. i problemi, i problemi, diciamo, se uno si presenta in grande i suoi problemi e non ha neanche cominciato, già senti la pesantezza, Senti una relazione, ti senti il peso, no? È ovvio che le persone, le persone scappano, il mutuo soccorso, il mutuo soccorso, una relazione di mutuo soccorso, c'è, ma la relazione non dovrebbe essere basata sul mutuo soccorso, dovrebbe essere basata sul mutuo piacere, fondamentalmente, no? Dovrebbe essere basata sul mutuo piacere, quindi questa è un'altra cosa che in linea di principio va mantenuta segreta, ma non solo va mantenuta segreta, non va neanche messa, no? Come vincolo, perché il vincolo, se tu lo metti, non ti porta a nessun risultato, no? Altrimenti tu sembri un'amantide religiosa, no? Avete presente? un'amantide religiosa, quella che tu inizi ad avere una relazione e lei ti divora, no? Perché ti senti proprio divorato, no? Ci sono persone che hanno tanti di quei problemi che ti sembra che ti divorino fondamentalmente. Bisogna fare attenzione, bisogna fare attenzione a questo. Diciamo che gli uomini o anche le donne in generale, quando hanno qualcuno problematico, ci sono poi quelli che si agganciano anche per carità sulle situazioni problematiche, ma io credo che una persona che si aggancia su situazioni problematiche sia a sua volta una persona problematica, quindi questo è un po' un altro concetto, no? Perché un'altra cosa che non bisogna fare e questo specialmente lo fanno le persone è esibire, autoqualificarsi, anche se tu hai raggiunto degli obiettivi reali, ah io sono qua, io sono là, io ho questo, io ho quello, autoqualificarsi è sempre sbagliato. Primo perché ad esempio gli uomini che manifestano, magari sono pure ricchi, ma manifestano diciamo i soldi di voler andare via dalla casa dei suoi e venire a vivere con me, ma chi ti conosce? Esatto, brava Sissi, ma questo vale anche per gli uomini, no? Cioè quelli che fanno esattamente il contrario, no? Che cercano di autoqualificarsi. L'autoqualifica è sbagliata perché ma spesso lo fanno anche le donne, lo fanno anche gli uomini, io ho questo, io ho quello, io ho qua, io ho là. E questo è il modo migliore per attrarre tutti, come dire, gli opportunisti, per attrarre tutte le arrampicatrici sociali. Quindi cerca di mantenere anche lì un po' di segreto, un po' di mistero. Puoi anche essere Bill Gates, non è che deve andare a dire in giro sono Bill Gates, ho questo, ho quell'altro, cioè mantenere un profilo basso è un punto importante, è un punto fondamentale, no? Mantenere un profilo basso diciamo è questo il concetto di fondo, no? Quindi noi dobbiamo definire i nostri obiettivi perché definire i nostri obiettivi è un punto fondamentale, ma dobbiamo tenere nascosti i nostri obiettivi, dobbiamo tenere nascosto diciamo il fatto che siamo coinvolti eccessivamente con una persona, dobbiamo tenere nascosti i nostri problemi e dobbiamo in qualche modo anche tenere nascoste le nostre skills, no? Le nostre capacità perché altrimenti tende ad attirare diciamo persone opportuniste fondamentalmente. Questo è un errore, salutiamo la nostra Patrizia Perotti, questo è un errore che fanno molti uomini, di solito uomini abbastanza sfigati che cercano in qualche modo di comprarsi una donna, ma lo fanno anche molte donne con i toy boy e attiri proprio le persone che non ti daranno che non ti daranno nulla fondamentalmente, no? Persone che si vogliono sistemare, ecco, far percepire che tu ti vuoi sistemare è qualcosa di negativo, è qualcosa di negativo perché se uno capisce diciamo che una persona si vuole sistemare e beh cioè tu perché devi diciamo accollarti come dire addosso un'altra persona? Diverso il discorso soprattutto questo è anche un fattore legato all'età no? Perché è diverso il caso quando due persone e due ragazze ad esempio si conoscono a 20 anni 25 anni e magari crescono assieme fondamentalmente è qualcosa di diverso no? Ma persone che si incontrano a 35 40 50 anni 60 anni insomma l'età che hanno bisogna mantenere la propria definire dei confini ecco un altro errore secondo me è quello di non definire dei confini definire dei confini è un punto fondamentale cioè definire un confine è importante molto importante perché come dire eviti ad esempio che un'altra persona possa essere eccessivamente invadente eccessivamente invasiva quindi non vuol dire mettere dei vincoli logici però vuol dire insomma io sono io e ho la mia vita o le mie abitudini o le mie cose se vuoi entrare nella mia vita io rispetto le tue abitudini il tuo modo di essere il tuo modo di fare ma tu devi rispettare il mio quindi questo è un altro punto che secondo me è importante quindi in questo caso quello che devi evitare di fare è quello in questo caso di non di non mettere dei limiti di non mettere dei limiti e devi assolutamente evitare di accettare persone che in qualche modo possono essere l'anno scorso o qualche uscita da oggi farai tutto con me porca miseria se uno ti dice da oggi farai tutto con me è veramente sembra una minaccia questa porca miseria bisogna fare attenzione a questo tipo di situazione a questo tipo di personaggi perché ti troveresti praticamente una persona che ti stacca il fiato sul collo che ti toglie il fiato che ti impedisce di respirare liberamente ma lo fanno anche molte donne ci sono le mantidi religiose che ti divorano praticamente questo è più un fattore femminile che un fattore maschile la donna mantide religiosa qual è la donna mantide religiosa sapete che in natura diciamo la femmina della mantide religiosa che è quell'insetto verde che sembra che preghi diciamo quella si divora al maschio ancora prima della fine dell'accoppiamento quando sono lì che si accoppiano lei inizia a divorarlo praticamente pensate quindi questo è la mantide religiosa non è che ti divora nel senso che cannibale si nutre di te si spera diciamo che non sia cannibale però inizia a divorarti a succhiarti energie fondamentalmente a toglierti energie la mantide religiosa molte donne sono delle mantide religiose perché hanno proprio la voglia di entrano vogliono entrare nella tua vita vogliono squartare la tua vita e tu ti trovi praticamente cavalletta malefica si tu ti trovi praticamente isaura se vieni con me ti porto via per sempre ti porto via per sempre è un qualcosa di sbagliato ma le donne mantide religiose sono donne che si infilano nella tua vita no? tu praticamente quella il primo giorno che viene a casa tua lascia lo spazzolino da denti e quello è il piede nella nel piede come si dice il piede di porco quello che ti fa la leva prima volta che magari viene a casa tua e dice posso lasciare lo spazzolino da denti e ti lascia vabbè lo spazzolino da denti ma perché no peccato che poi dopo con lo spazzolino da denti porta valigie valigie di vestiti porta qua porta là porta su porta giù e tu ti trovi praticamente e ti va bene se non ti porta pure i suoi quattro figli e ti piazza a casa e come dire magari tu ti trovi a fare ti trovi a fare il come dire il babysitter fondamentalmente no? quindi fatta attenzione a quelli che ti dicono ma posso lasciare porta i mobili esatto posso lasciare lo spazzolino da denti posso lasciare lo spazzolino da denti quello è un segnale che devi fare molta attenzione perché ti lascia lo spazzolino da denti è un piccolo porta sei figli a madre e nonna esatto esatto ti porta tutto quindi fate attenzione questa è l'amantide religiosa no? è quella che ti divora ci sono anche uomini che hanno questa caratteristica ma secondo me sono un po' più limitati fondamentalmente quindi fate attenzione secondo me anche a questa tipologia di persone no? ovviamente ci sono ecco un'altra cosa che va evitata di fare che secondo me è il canto del cigno della seduzione e il bacio della morte me lo butto però brava il bacio della morte e della seduzione è quello che molte persone fanno soprattutto lo fanno gli uomini ma è sbagliato quello di fare lo sborone ah io qua io là quelli che si autoqualificano non dobbiamo mai autoqualificarci eventualmente ti può diciamo si può autoqualificare ti può autoqualificare qualcun altro allora quella è una preselezione e funziona e dà comunque i suoi risultati ma se tu da solo ti vuoi autoqualificare praticamente non non c'è oppure io direi fare attenzione anche a quelli che ti fanno domande eccessive domande anche perché che denotano anche un'insicurezza ad esempio quello che dopo averlo fatto ti dicono ah ti è piaciuto ti è piaciuto non ti è piaciuto ma cioè non è che devi mettere le stelline mi è piaciuto non mi è piaciuto sono stato bravo ti ho fatto godere ti è piaciuto e che una gara diciamo a come dire una gara che uno deve fare cioè tanto se non gli è piaciuto non è che se tu glielo chiedi gli è piaciuto o meno fondamentalmente cioè cambia idea no come è andata è andata d'altra parte ognuno fa quello che deve fare poi dopo se gli va se ti è piaciuto ti è piaciuto se non ti è piaciuto non ti è piaciuto non è un mio problema se ti è piaciuto da uno a dieci sì da uno a dieci quando ti è piaciuto oppure quelli che che ti trovano oppure quelli che ti trovano diciamo oppure quelli che ti trovano che pensano che sia un come dire una gara no quelli che ti dicono ma ti piace più con me o ti piaceva di più con il tuo ex questi che ti fanno queste domande assurde questo rivela un'insicurezza di fondo cioè ti fanno capire che sono persone fortemente insicure no ti piaceva di più col tuo ex o ti piace più con me uno che ti viene così questo lo fanno anche molte donne comunque evitate di fare queste domande tenete segreto tenete segreto diciamo queste domande vanno evitate però